Musica Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, prosegue la protesta dei dipendenti di Siracusa Risorse sulla cisterna, sulla palazzina, nell'area dell'ex consorzio agrario di Siracusa. Lunedì proprio da lì intanto partirà la manifestazione. L'ex consorzio agrario di via questa è l'agrario interna sulla quale uno dei lavoratori di Siracusa Risorse è salito 5 giorni fa. Alle mie spalle c'è la palazzina dove altri si sono arrampicati, sono passati 5-6 giorni, quasi una settimana, continua il loro problema. Non si ferma, c'è stata una riunione a Palermo, ci sono andati i sindacati, qualche deputato è venuto qui a trovarvi, qualcun altro forse passerà, però voi dite che noi vogliamo che si muova qualcosa realmente. Innanzitutto siamo pretenti dal presupposto che il presidio era permanente fino a quando non arrivavano realmente soldi, dato il trascorso che c'è alle spalle. Riguardo ai sindacati, io penso, sono convinto di quello che dico, che abbiamo dato uno sprono anzi ai sindacati, perché andare a Palermo e portare la manifestazione che già era in corso, mi sembra che sia stato uno sprono in più per loro. Perché tutto dipende dalla disponibilità dei fondi che arrivano da Palermo. Le ultime notizie che abbiamo è che in questi giorni probabilmente verrà pagata una delle fatture della società che consentirà di pagare uno stipendio, ma a noi ne mancano 7, quindi il problema si risolverà quando verranno pagati tutti a 7. Continuano le proteste per quanto riguarda l'accorpamento delle Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, posizioni diverse, intanto le associazioni di categoria diffidano il presidente Rosario Crocetta. Assenza di trasparenza e minaccia il principio di legalità nel corso delle procedure di accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa. Queste in estrema sintesi le motivazioni che hanno spinto le associazioni di categoria del sud-est di Sicilia a presentare formale diffida al presidente della regione Rosario Crocetta. Non una guerra contro qualcuno o peggio una lotta per le poltrone, dichiarano le associazioni di categoria, ma una presa di posizione netta a favore della trasparenza e della legalità. Due principi di cui proprio il presidente Crocetta, anche a rischio della sua stessa vita, si è fatto portavoce nel corso della sua carriera politica. La richiesta di una commissione di verifica delle procedure di accorpamento in un primo tempo approvata con la determina dall'assessore Robello non solo è stata successivamente disattesa, ma sono stati varati i provvedimenti in sfregio proprio a quella richiesta, basandosi esclusivamente sui controversi dati e rilievi del commissario ad acta per l'accorpamento delle Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, dottor Alfio Pagliaro, la cui condotta a seguito delle nostre denunce è tuttora al vaglio della magistratura amministrativa e penale, oltre che oggetto di una specifica interrogazione parlamentare da parte dell'onorevole Giampiero Dalia. La necessità di una verifica dei numeri e delle procedure viene però vista da una parte di associazioni datoriali, come fumo negli occhi. È evidente, sostengono le associazioni firmatari della diffida, il paradosso di una simile situazione. Da una parte si è sicuri di quanto accaduto, dall'altra se ne rifiuta una puntuale e trasparente verifica. Delle due, l'una o il risultato non è poi così scontato, o la procedura non è stata del tutto lineare e trasparente. Adesso la rubrica La spina nel fianco, che ci porta nei pressi della pista ciclabile, accanto al monumento ai caduti d'Africa, potrebbe essere un luogo per passeggiare o per fare sport, andare in bicicletta. In realtà è diventato un luogo abbandonato, pieno di pericoli e senza sicurezza. La pista ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario, che fu inaugurata nel 2009 in occasione del G8 Ambiente, è abbandonata. Intitolata alla campionessa e figlia del grande Enzo Maiorca, non è stata fortunata. Nata con le difficoltà della fretta, diventa subito un luogo angusto e sinistro, dove ognuno poteva fare ciò che voleva, specie di notte. Poi nel 2015, la giunta Garozzo a seguito di un accordo gratuito tra il comune e la ditta che gestisce la pubblica illuminazione della città di Siracusa, furono avviati i lavori di riqualificazione del tracciato, per il ripristino del manto in terra battuta e la creazione di un'illuminazione pubblica per l'intero percorso. Ora quei lampioni sono volati via, spazzati dal vento e dall'incuria della mano pubblica, disseminati per terra, in balia, ladri e teppisti. Il bander in terra pieno in molti punti ha ceduto a causa delle piogge abbondanti e delle auto e moto che scorazzano indisturbate notte e giorno, in una pista che era invece destinata alle biciclette. Le protezioni laterali in legno in alcuni punti hanno ceduto e il tracciato serve la notte per evitare i posti di blocco a chi pesca nel torbido, in sella a moto e a bordo delle auto. È servita fin anche per far precipitare in mare un furgone rubato. L'amministrazione comunale ha lasciato senza sorveglianza e cura un bene pubblico che ora deve essere messo in sicurezza, con una spesa non indifferente, mentre occorre una completa manutenzione affinché tutti i cittadini e i turisti possano usufruire al meglio di un panorama e un paesaggio naturale senza rischi. Non sta meglio il vicino di casa, monumento ai caduti, abbandonato, nelle mani di teppisti che la notte bivaccano e si divertono a staccare le lastre di pietra bianca, che sono materialmente sparite. Segno che qualcuno o più di uno le ha portate via indisturbato. Tutto questo senza che da Palazzo Vermexio si sollevi un dito o una parola per mettere in sicurezza e in uno stato dignitoso un bene pubblico, considerato che la pista ciclabile e il monumento ai caduti sono meta di turisti. Gli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti nel tempo hanno a parole promesso telecamere, vigilanza e manutenzioni, ma la pista ciclabile e il monumento ai caduti antistante alla bella chiesa dei Cappuccini sono di fatto abbandonati. Sono luoghi pericolosi dove la notte stazionano barboni e vandali, mentre voi, baroni della politica siracusana, siete impegnati a cercare nuove tattiche per sconfiggere il nemico di turno. Ci stupite ogni giorno di più. Non ascoltate nemmeno la voce delle proteste che arrivano dal popolo sovrano e fate come vi pare senza peccato e pentimento. Ma chi siete dunque voi? Sede dei vigili urbani in Via del Molo. Alcuni degli ambienti non sono fruibili. Bisogna fare dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione. Quindi quegli uffici al momento sono stati trasferiti al palazzo di vetro di Via Brenta. In Via del Molo sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della caserma, del comando della Polizia Municipale. Ricorderete qualche tempo fa i stessi sindacati di categoria avevano lamentato il fatto che alcuni ambienti fossero invivibili. Si parlava di infiltrazioni dal tetto, caduta di alcune parti del soffitto, lo sbriciolamento dell'intonaco e quindi per questione di sicurezza sui posti del lavoro si iniziò a parlare della necessità di questi interventi. Adesso sono iniziati, si parla di una spesa superiore ai 200.000 euro. Al momento alcune delle sezioni della Polizia Municipale nel frattempo sono state trasportate nel cosiddetto palazzo di vetro di Via Brenta. La cronaca, un incendio ha distrutto completamente cinque autovetture parcheggiate ad Augusta in Via Barbarino. Tutto è partito dalla segnalazione. I residenti hanno inviato una telefonata al 112 dei Carabinieri. intervenuti sul posto. Le fiamme avevano avuto origine da una Fiat Cubo che poi ha investito anche le altre automobili. I vigili del fuoco però hanno effettuato sul posto le prime indagini. I primi rilievi pare che abbiano accertato che l'incendio è di natura accidentale. Nessuna società ha presentato offerte per la gestione degli impianti della cittadella dello sport né per la palestra a credina. È andata a deserta la gara per l'affidamento degli impianti sportivi della cittadella dello sport e per la palestra a credina. Nessuna società sportiva infatti ha presentato offerta prima della scadenza del 10 novembre. Finisce quindi prima di cominciare il bando che aveva già sollevato diverse polemiche. È risultato un bando scarsamente appetibile per le società che avrebbero dovuto affrontare un investimento da 5 milioni e mezzo di euro per un affidamento decennale delle strutture. Il comune avrebbe erogato un contributo annuo di 250 mila euro nel 2017 e poi 200 mila nel 2018 e nel 2019. Per il leader di evoluzione civica Getano Penna la conferma delle falle che presentava il bando, dice Penna, frutto di disamministrazione e mobilismo del comune. L'amministrazione comunale intende correre i pari prendendo a prestito i suggerimenti pervenuti al Comitato Provinciale del CONI che ha ipotizzato una partecipazione allargata alla gestione degli impianti. Intanto il 31 dicembre scade la proroga per la gestione degli impianti affidati a quattro società. Il rischio che si corre adesso è che a partire da gennaio la cittadella dello sport potrebbe non essere gestita da alcune e quindi l'intera attività sportiva sarebbe a rischio. Questa mattina è stato ricordato il collega scomparso Pino Filippelli il giornalista decano della nostra professione a lui dedicato uno slargo nei pressi della cittadella sportiva. Giornalismo in memoria, la città di Siracusa e i colleghi questa mattina hanno ricordato il decano Pino Filippelli a lui dedicato uno slargo nei pressi della cittadella sportiva. La professione particolare è difficile, la nostra è quella dei giornalisti abbiamo spesso bisogno di punti di riferimento anche legati al passato e Filippelli in questo caso rimane un esempio importante. Diciamo sempre la solita cosa retorica che Pino Filippelli è stato per tutti noi un maestro ma lo era non soltanto dal punto di vista professionale lo era soprattutto da un punto di vista umano ed etico. Pino era dotato di una qualità molto rara in questo periodo storico e c'è il buon senso. Questo per noi è un giorno molto significativo io e la mia famiglia siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che l'amministrazione comunale ha voluto dare a mio padre figura di giornalista notissimo sapete tutti quanti per tanti anni ha diretto la relazione della Sicilia qui a Siracusa, è stato corrispondente della RAI, dell'ANSA. Sono particolarmente contenta del punto in cui è stata posta questo largo proprio la scelta del posto, mi entusiasma perché da piccolina io con papà lui mi veniva a prendere a scuola qui in via Tucidide per tutte le elementari il sabato però, tassativamente il sabato mi veniva a prendere insieme alla mia amica Laura ci caricava sulla macchina e ci faceva fare le curve non dovrei dirlo, a velocità folle e noi ci lasciavamo cadere da destra a sinistra urlando lo provocavamo un po' sul fatto che lui non sapesse correre abbastanza e quindi lui ci aiutava. È partita ieri sera la quarta edizione del Festival Documentaria Noto 2016 film in concorso sono 12 Ha preso il via la quarta edizione del Festival Documentaria Noto ideato ed organizzato dal collettivo artistico Frame Off un'edizione interessante e ricca che è partita con le proiezioni dei primi due film in concorso al Teatro Comunale di Noto Grozny Blues di Nicola Bellucci e Nemico dell'Islam In questo primo fine settimana gli altri quattro film in concorso saranno Triocala di Leonardo Piccarella e L'ombelico magico di Laura Cini Oggi, L'albero di trasmissione di Fabrizio Bellomo e Lucemia di Lucio Viglierchio Domenica La giuria sarà chiamata ad assegnare riconoscimenti migliore regia, montaggio e fotografia e che gli spettatori in sala saranno invitati ad esprimersi sui film contribuendo ad assegnare a fine Festival il premio del pubblico così come grazie alla collaborazione del dirigente scolastico dell'Istituto Matteo Raeli di Noto, concetto veneziano e confermato anche il premio scuola La serata di venerdì avrà però alcune interessanti anteprime Adesso lo sport e il calcio con Siracusa che si prepara all'incontro di domani con l'Akragas Era importante riuscire ad ottenere una vittoria esterna per il morale, per rassenerare l'ambiente ma soprattutto per scrollarsi di dosso il persistente problema mentale che affliggeva la squadra sin dalle prime giornate Il convincente successo ottenuto sul campo della regina è stato probabilmente utile a trovare per Mr. Sottil la quadratura del cerchio il modulo più idoneo dell'undice sierato che si concretizza nel garantire ottime trame di gioco schemi eseguiti in modo corretto e tanta grinta Domani al desimone arriverà l'Akragas di Mr. Di Napoli per uno dei derby più attesi Nella circostanza la squadra azzurra oltre a cercare di riscattarsi dal 3-0 subito ad opere dei Biancazzurri in Coppa Italia potrà confermare il buon momento e continuare sulla strada intrapresa avendo peraltro la possibilità in caso di vittoria di scavalcare in classifica proprio gli agrigentini Non saranno della gara Spinelli squalificato per un turno Shanamè e Filosa ancora alle prese con i postumi di un infortunio Il match con inizio alle 14.30 sarà diretto dal signor Carlo Amoroso di Paola con gli assistenti Valerio Vecchi e Fernando Cantafio di Lamezzi a Terme La tredicissima giornata sarà completata da Catania Catanzaro, Melfi Reggina Messina Fidelisandria, Paganese Foggia con inizio alle 16.30 mentre alle 20.30 chiuderanno Casertana Juvestabbia, Lecce Cosenza Matera Unicosano Fondi Monopoli Vibonese Taranto Virtus Francavilla Prima di chiudere un appuntamento questa sera si tiene il secondo degli otto concerti d'organo nella cattedrale di Siracusa il nome dell'iniziativa è Parole d'organo si inserisce nell'ambito del corso per operatore liturgico musicale il concerto inizia alle 20.30 protagonista il maestro Diego Cannizzaro e l'organo della cattedrale restaurato da poco Parole d'organo è promosso dalla cattedrale di Siracusa insieme a Kairos e altri concerti saranno poi il 10 dicembre il 14 gennaio il 18 febbraio il 18 marzo il 22 aprile infine il 13 maggio bene per noi è tutto il telegiornale così si conclude vi auguriamo un buon proseguimento di programmi appuntamento tra poco per chi voglia insieme c'è più gusto si parlerà della ConfCommercio ha avviato la nuova campagna associativa con diverse iniziative in studio ci sarà Francesco Alfieri direttore di ConfCommercio Siracusa per noi è tutto il telegiornale così si conclude vi auguriamo un buon proseguimento di programmi Grazie a tutti Grazie a tutti